Che non è più la bassa e alza, ma al sud, no, no, dal Val di Fiemme, che una volta si diceva il nord e il sud, no, e a tirare via, perché è più alta e bassa, tutti insieme, facciamo una bella festa. Guarda che che erano 3.747 soci all'epoca, vuol dire il 30% della popolazione, tutti insieme a creserci, a dire dai che la facciamo, dai che cambiamo le robe, pochettino ogni giorno, ma dai! Vedete che si molla, è finita, è fantastico, tutte le bassine, le alguerre, sono a posto, e no, e no, perché con la cooperazione ti puoi dire che ti sia a posto, perché una volta che ti dici che ti sia a posto, sai che cosa succede? Ha ben facile, succede che, qua in Trentino la cooperazione è come la natura, le è ovunque, e allora noi la vediamo pure lui, nessuno la vediamo pure, altro che, e allora mia, chi che noi è buoni di vedere la cooperazione, e invece di augurarvi che la vaghe via un pochettino alla volta, come succede se c'è certe malattie, che la nata via che nessuno mi si è reso conto, Mi, mi auguro una volta sola, e che una volta sola, la cooperazione dal dia all'altro... È più difficile, cambiare fede è quasi impossibile, cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori, non sarebbe neanche naturale Cambiare opinione non è difficile, cambiare il partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi, faresti la rivoluzione Beh, 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 beh... Beh, beh, beh... Vivere è vero, cercare di vivere Fare il meno male possibile E non essere il migliore Non avere paura di perdere E pensare che sarà difficile E amarsela da questa situazione E non avere paura di perdere E non avere paura di perdere E non avere paura di perdere